Mi sono idratato male, non ho bevuto sali e sull'ultima salita l'ho pagata, peccato perché oggi era una bella occasione per prendere la maglia blu perché stavo veramente bene, però purtroppo ad un certo punto ho sentito all'improvviso a arrivare i crampi e non c'è stato più niente da fare. Poi mi sono ripreso perché qua nel finale stavo bene, però in quel momento lì ormai non c'era più nulla da fare, è peccato ma la gamba c'è, in salita vado forte e ci riproverò. Purtroppo strade strette, le macchine fanno fatica a passare, l'acqua ne ho bevuta, però sono mancati proprio i sali minerali perché sono tutto bianco e se non ti idrati bene in queste tappe ho sottovalutato un po' la cosa e l'ho pagata. L'unica cosa, meno male, non è arrivata la fuga, se no veramente era un disastro. Comunque ti riproverai? Sì, sì, in salita sto veramente bene. La maglia ancora può essere un obiettivo? Sì, sì, è un peccato perché oggi ero straconvinto di prenderla, però mi dispiace, mi dispiace.